buongiorno a tutti benvenuti sul mio canale youtube sono tufomix e siamo anche oggi su eFootball 2023 allora giovedì scorso hanno alterato il campionato novità quindi noi partiamo da quel momento perché io praticamente sono arrivato in questo momento qua per me questo ora è giovedì anche se non è giovedì ma è giovedì quindi vediamo le novità di questo 7 luglio 2023 in ritardo ma io le vedo adesso non mi interessa anche perché video della sua in ritardo quindi ho diversi video da portare sul canale quindi non riesco a portare tutti i giorni il Football portiamo anche altre cose molto carino ultimamente portiamo Final Fantasy 16 Diablo 4 stiamo portando anche Alan Way che è un gioco molto bello e diciamo che mi prende tantissimo è un po' da strissa e però insomma a me piace mi diverte è meglio non giocare di notte magari meglio di giorno comunque ragazzi è un gioco simpatico ed è gratuito questo mese sul Plus Essential quindi ve lo consiglio chi ha il Plus di prendendo scaricarlo giocarci perché ne vale veramente la pena ma noi oggi siamo su Football e io vi ringrazio tutti quanti per essere presenti sul mio canale per darmi i vostri contributi con i like le iscrizioni semplicemente con le visual con i commenti insomma io vi ringrazio tutti quanti e grazie a sempre a voi che il canale pian pianino sta crescendo è un solutore particolare e gli amici che portano youtube sul che portano youtube perché cacchio sto dicendo che portano il Football solo lo che rave ragazzi sono Alessandro Gamer e Burneo della Stace e abbiamo anche Ale Beni 86 oltre a loro 4 che portano il Football vi ricordo anche di andare a trovare Squalo Calcio e Lupo del Tubo altri due ragazzi molto in gamba simpatici portano i contenuti anche loro quindi vale la pena andare a trovare nella mia sezione canale trovate le varie vari indirizzi ovviamente metterò subito anche quello di di Ale Beni non ho ancora messo ma glielo metterò subito appena appena staccherò questo video se non l'ho già messo precedentemente perché il video sapete che è registrato comunque questo non è importante l'importante adesso delle che novità o internazionale Milano ragazzi questa è una bella cosa questa è una bella cosa perché a me fa molto piacere l'internazionale Milano l'inter praticamente abbiamo Adriano del 2005 Giulio Cesar e Cordoba ragazzi difensori attaccante e portiere veramente top e adesso andiamo avanti e vediamo le novità prendiamoci 10.000 GP come sempre prendiamoci cos'è questo un accordo buio va bene ottimo lo prendiamo tranquillamente contratto mirato 3 vabbè per 2 3 per che sono le frene di 3 per li mettiamo lì 15.000 GP per i premi di fase di campione siamo vi ricordo che siamo mandati in divisione 4 quindi partiremo sicuramente dalla 7 2005 punti e football va bene ce ne erano regalati e aggiuntabilità per 3 va bene sono comodo quindi diamo importante aggiornamento riguardo altre ricette allora dopo aggiornamento i giocatori e gli attori di giocatori riguardano i nomi originali e di football va bene nomi originali per questi giocatori che ce ne sono tantissimi squadre nazionali va bene ovviamente dell'italia non si parla perché non è compresa in queste in quello che era successo quindi va tutto bene ok ragazzi a questo punto chiudiamo questo e andiamo a a dire no altra cosa da leggere è l'inglese quindi lo saltiamo a sia hanno fixato praticamente con la manutenzione qualcosa va bene non c'è problema chiudiamo pure questo andiamo subito a vedere quello che c'è da prendere qua e allora contratto grazie per aver giocato molto mirato premio e football campionato blablà bonus del accesso prendiamo tutto ragazzi e ci fa piacere moltissimo e adesso andiamo a vedere un po' che succede qua allora velocemente partita vediamo velocemente negli eventi vediamo se c'è qualcosa di interessante negli eventi negli eventi italian league italian league buona sei giorni sei giorni anche per la ilux revutai entrambe sono contro l'intelligenza artificiale quindi contro la playstation national teams continua contro la playstation rimangono tre giorni starter è rimasto lì va bene golden gods l'abbiamo ancora novità legend sempre contro l'intelligenza artificiale ragazzi quindi praticamente è il football festival termine a fare sei giorni contro la playstation contro il computer contro l'ex box e abbiamo il napoli va bene poi italian league league contro i giocatori ideali contro i player e national team contro i player italian league è nuova contro i player legend e napoli nuova le altre sono tutte vecchie nuove abbiamo ilux revutai e italian league quindi quattro nuove tornei nuove sfide di cui due contro computer contro la play e due contro gli tre contro il computer ragazzi e una contro gli utenti contro il player va bene poi le faremo con gamma magari offline cose meno meno importanti vediamo vedere i giocatori che ci ha regalato e sinceramente uno ma vediamo anche le novità l'interesserebbe parecchio l'inter allora abbiamo 400 monetine noi va bene ti regalo un giocatore vediamo intanto qua cosa vediamo niente di che ci regalo un giocatore abbiamo delle scadenze vediamo quando scadono i 5 per non vorrei farli scadere non vorrei fare scadere i 5 per e poi facciamo triangolo e vediamo quanto scadono i 5 per allora il 10 i 10 e le 11 mi scadono 2 da 3 va bene ragazzi non è un problema poi vedremo qualcosina allora vediamo subito a madonna l'interminario c'è un pool da 150 non si può fare queste cose e anche in napoli un pool da 150 ma non si può fare queste cose in correde ragazzi va bene era sei giorni sei giorni e in correde stars lo abbiamo qua pappé uno fernandez son e qua cosa abbiamo invece e neymar di maria parte 1 e parte 2 italiana lì che avevamo già rimangono tre giorni ragazzi di nuovo abbiamo delle delle ciopeche nel senso che abbiamo l'increde va bene che i giri costano 100 monetine sono giocatori tutti forti ovviamente sono tutti giocatori molto forti e solo così vederne al volo qualcuno ragazzi sono tutti giocatori molto forti eh tutti giocatori molto forti eh ce ne sono molti del portogallo eh amrabat che gioca in italia va bene molina va bene invece dell'altra ragazzi diamo un'occhiata nell'altra che è questa abbiamo anche qua giocatori ovviamente che conosciamo quindi anche qua di nuovo un bappé però abbiamo anche altri giocatori c'è lei se il bappé ragazzi va bene eh son Havertz Gapko e Nathèo Hernandez Richarlison Nesli del porto eh anche lui del portogallo no scusate della della Turchia eh Bruno Fernanda del portogallo eh Morata Alaska va bene Kovacic ragazzi eh diversi giocatori diversi giocatori Rashford Fernandez McCallister insomma ragazzi i minori sono tre stelle gli altri sono ma non è qua che ci interessavano interessavano queste qua purtroppo i pool di Inter e Napoli sono pool da 150 e molte passa l'Inter vediamo cosa abbiamo col pool di Milano vediamo tutti eh lo so ragazzi è dura qua trovare cose di interessante eh allora eh Julio Cesar Adriano e Cordoba sono quelli con il voto più alto ma poi abbiamo Skriniar Lautaro Verratti non c'entra niente con l'Inter come Goresta come Muslala come Brano va bene Brodovic Ciaranoglu Ciaranoglu un 80 ce l'abbiamo appena comprato Benny Heder Lukaku 80 Bastoni 79 ragazzi De Vrij Dzeko Dunfri Sonala e Bassino nella 78 eh Acerbi 78 anche lui e così via fino a Scemane con Andalo vicino il 77 e Di Marco il 76 e fino ad arrivare alla fine dove abbiamo anche Correa il 76 e giù di lì Mighitalia il 76 beh forse meritava un po' di più Mighitalia Cosa il 75 e giù fino in fondo non c'è più nessuno no sono tutti scarti Gagliardini e Dernian ragazzi qualcosina in più l'avevi messo ha fatto un campionato eccezionale Dernian eh scusate se è poco ma ha fatto un campionato dove lo mettevi lo mettevi lui giocava e giocava anche bene eh sulla fascia centrale a sinistra destra avanti indietro ha giocato bene quest'anno Dernian eh quindi Gagliardini, Dernian, D'Ambrosio e Aslani e finisce qua va bene ragazzi e qua non c'è il giro creaturio il giro creaturio lo troviamo qua dove c'è il pool del Napoli che vediamo un po' anche qua sono 150 sono tantissimi c'è anche qualcuno dell'altro in mezzo ho visto anche Demineković-Savic va bene abbiamo Kavarskayla, Varello 85 ragazzi qui sono tutti italiani? direi c'è Kim, c'è Ben Ansel, Ozy Men direi che alcuni sono potenti alcuni meno eh perché io vedo alcuni hanno figurino in piedi Rui, Danilo, Rovedel ragazzi il portiere della Lazio, Rovedel e poi direi che Dia punta gli altri sono tutti i giocatori normali quindi ce ne sono diciamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci sono undici i giocatori sembrerebbero in evidenza andiamo a vederne uno, andiamo a vedere Barella cosa ne dice in evidenza mentre se noi andiamo su Ozy Men è standard mentre Danilo è neve, sono undici in evidenza ragazzi magari è un po' di culo dai passiamo sul giretto vediamo chi vi chiamo tanto il giro è gratis e non ci costa nulla dai e poi ci passiamo alla partitella in divisione Italia mamma ecco tre stelle ti pareva? cosa beccare se non tre stelle? Toloi dell'Atalanta ragazzi ma non è che mi interessava particolarmente Toloi dell'Atalanta ma è questo che ci ha dato il pool ragazzi è un pool di cacca eh adesso magari ne giriamo un altro così per puro divertimento ben poche molettine ma magari trovare qualcuno che ci vale la pena non sarebbe mica male non sarebbe male trovare un Adriano quindi andiamo a girare nel pool di qua no, Adriano è di là, che miseria avete ragione, avete ragione l'Inter e Adriano ne sono solo tre qua sono molti di più in evidenza sono molti di più non saprei neanche io cosa fare facciamo un giretto e poi andiamo a giocare dai un giretto solo a pagamento e poi andiamo a giocarcela tanto la sfiga è con noi tre stelle come sempre Italia vediamo quante stelle tre stelle dai chi becchiamo? chi becchiamo? il giocatore è Ampadu lo spezia dove gioca Ampadu? nello spezia mediano o difensore? padonna cappellone che è questo Ampadu Ampadu difensore centrale Ampadu gioca credo nello nello spezia non si capisce bene quale squadra sia ma è scherzino eh c'è 40 più livelli di crescita va bene ragazzi direi che a questo punto andiamo a perci una partitina e poi chiudiamo tutto quanto e ci salutiamo allora intanto ragazzi prima di andare a fare la partitina vi ricordo se non siete ancora iscritti al mio canale youtube sapete cosa fare ragazzi iscrivetevi l'iscrizione non costa assolutamente niente è gratuita e poi ci attivate la campanella sarete avvisati ogni volta che metteremo un nuovo video sul mio canale certo e andiamo dentro my dream vi ricordo anche ragazzi se alla fine di tutto quanto vi piace questo episodio la mia compagnia vi piace il football potete anche lasciare tranquillamente un like un mi piace a piacere e piace anche a me ok entriamo direttamente dentro e vediamo eventi campionato e football siamo passati in quarta proprio l'altra serie di sera fase 12 iniziata e ci ha buttato in divisione 7 va bene 15 invece da 10 mille spi va bene divisione 7 ragazzi bisogna vincere 3 per andare avanti per andare in sesta o vincere 2 per andare in oh nessuno che ha giocato ancora giochiamo noi vediamo la formazione poi tutto non vorrei che qualcuno sia no a parte che sono tutti c e b quindi non è che abbiamo poi tante differenze di giocatori sono tutti c pochissimi sono b ecco lampard messi can sono b e neymar gli altri sono tutti giocatori c andiamo un attimino a vedere magari cosa abbiamo qua ma abbiamo sempre gli stessi abbiamo Salah va bene Salah va bene come punta come Vlaovic che possiamo usarli abbiamo 1 2 3 4 messi ragazzi c'è il brazzo della scelta eh Gabi Barbosa 94 Orvarez 90 Gabi Barbosa è A ragazzi Gabi Barbosa è A non saprei chi poter togliere vediamo se c'è qualcuno da togliere non voglio togliere un libro subito Martinez e neanche Oland però per Zemano lo possiamo togliere mettiamo Gabi Barbosa 94 non si sa mai ragazzi potrebbe tornarci utile dai facciamoci una partitina tuffo mix su youtube su eFootball 2003 siamo in divisione 7 perché ovviamente dalla quarta siamo retrocessi per noi la quarta è già tanta roba per noi arrivare in quarta è stata una bellissima avventura e adesso ci riproviamo pian piano a ritornare su il giorno 7 luglio si è interato il campionato quindi tutto è rifatto e si riparte da zero vediamo eh allora abbiamo Lion contro l'eroe cerchiamo di giocarcela subito benino vediamo di attivare questo che può essere utile per dopo facciamo così allora vediamo le maglie l'Ajax mmm vabbè vediamo se l'Ajax può mettere una maglia chiara l'Ajax e noi usiamo la maglia che ci piace a noi questa dai andiamo avanti vediamo le formazioni ragazzi allora gli addetti alla sicurezza abbiamo Hernandez è sempre ultimamente Hernandez è sempre stacco o la sera mi svolgia non so cosa la combina la sera sto ragazzo ma è sempre stanchissimo vediamo in difesa se qualcosa è meglio no Kim è frecci gialla come Coulibaly quindi lasciamo stare eh Varella va bene come Casimiro ci può stare dopo può entrare anche Gavi c'è la Novolo può entrare sicuramente perché è messo bene gli attaccanti su tutto il pleccio gialla ragazzi vediamo l'avversario come se la gioca eh Isaac Mbappé e Metz Isaac Mbappé e Metz Isaac è una leggenda? non so De Bruyne Pedri Marchignos Pedri cedrocampista Clavediana va bene Cho e Kimis sui laterali De Ligt e Hernandez al centro la coppia del Bayern praticamente ragazzi pom pom e Casiglia si importa leggenda 100 ragazzi Casiglia si importa 100 100 ragazzi 100 Casiglia si importa andiamo a giocarcela vi raccomando ragazzi se svappate niente nicotina niente tabacco usate solamente gli aromi io uso Menta Liberizia ve lo consiglio molto buono prima giornata di campionato dai forza cerchiamo di divertirci impegnarci giochiamo noi in casa vai Madonna subito e questo mi sa che che complesso magnifico è sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco nel frattempo la gara è iniziata bravo ok bravo bravo riceve il passaggio ah Madonna non si è tirato come volevo eh la mette sul piano fisico e riconquista la palla intervento decisivo Luca chi pensi possa essere giocatore decisivo oggi? Fabio occhi puntati su Franky De Jong è capace di essere decisivo in tutti i ruoli di centrocampo da regista, da interno, anche nella trequattia offensiva quando ha la palla tra i piedi la sua squadra ha giocato no, variata eh si è un giocatore sicuramente in grado di decidere le sorti della partita palla in avanti verso il compagno c'è l'opportunità per il contropiede Bruno Fernandes tocco preciso ah Madonna bravissimo intercetta il pallone, ben fatto scodelle in avanti era al posto giusto, un bel anticipo passaggio sulla destra la palla viene rigiocata verso l'interno pallone interessante in verticale Isaac ha visto partire il pallone bravo, eh peccato che me l'ha presa non è riuscito a fare niente Mbappé oh bravo, bravo Mbappé cross verso il centro intervento fondamentale va alla ricerca di un compagno davanti ecco un'occasione di contropiede vede lo scatto e cerca la profondità guadagna metri e ora un gol Mbappé nooo, che cazzo del tiro che ho fatto ragazzi bagliare un gol così qui sarebbe stato davvero un gran bel gol isaac la gioca sulla destra ruba palla in modo magistrale cerca l'uomo là davanti peccato De Bruyne si fa trovare al posto giusto al momento giusto cerca un'azione veloce bravo poteva essere un'azione importante difesa però ben posizionata non si fa ingannare dai preziosismi dell'avversario la porta era accessibile chance evidente la difesa di lavoro meno male vai 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 fuori eh ragazzi bravissimo una parata eccezionale questo ragazzi non è anche la tua da settima eh la quinta, la quarta sicuramente c'è movimento in area vediamo che soluzione cercherà ora palla corner ancora? avversari bloccati a 1 in tornata si è andato molto vicino va bene così e però non ha trovato la porta va bene va bene vai qui la nooo ma cos'è? sta togliendo il ritmo all'offensiva degli avversari si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa Kimmish sulla fascia è libero passaggio in avanti va bene questa palla è per lui beh questo è un passaggio quantomeno discutibile punizione eh punizione ragazzi è dura questa ragazzi è durissima provate in porta eh provate a volte va dentro eh a volte ha fatto gol da lì eh a volte ha fatto gol a volte l'ho fatto il gol quindi ci può stare per me porca miseria era fuori gioco mi sa che era fuori gioco se la gol ragazzi era fuori gioco quindi va bene così la va bene va bene va bene va bene va bene prova a darla profonda nello spazio hernandez ma va di testa ma come cazzo sai di piedi da lì ma pensi è una merdazza porca miseria errore qui pallone sprecato o variata pedri e bruin e trova bene il compagno no ha incontrato un degno avversario non avanza oltre vediamo se può capitalizzare la difesa spezza questa azione personale molto pericolosa mancano pochi secondi alla fine la gioca in profondità ragazzi il mio tempo è stato bello tosto bello tosto il mio tempo l'avversario non gioca male l'avversario si diverte e bravo devo dire voler il pane se non ho rimasto il pane ghiacciato mi raccomando allora dal secondo tempo vediamo un po subito di giocarcela se sono a kick off dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà eh da lì va bene da feghe tutti da tutte le parti però mi raccomando eh lo so va feghe sei bravo ti diverti oh calma eh bravo messi ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad apposire madonna mettima tira meglio è in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa certo la difesa gli ha concesso troppo spazio non è esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio Urca bravo stanno abbassando la linea difensiva Fabio credo abbiano deciso di colpire in contropiede gli avversari ah vogliono rimanere compatti dietro e poi sfruttare il campo di chance per tirare porca troia una conclusione velenosa non ha sbagliato nulla ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito provo a giocarla nello spazio ma non riesce tutto bene fino però all'ultimo passaggio l'intenzione era molto buona l'esecuzione un po' più vediata cerca aiuto nella zona laterale colchiero battuto beh ma non è preso che cazzo fai Donnarumma ma dai c'è in due ci sono guardati in faccia ragazzi Donnarumma del difensore che ci sono guardate nessuno la prese da ti importa ma voglio vederla cioè non ha capito guarda guarda numero 7 ma che cazzo di gol ragazzi porca troia che gol di merda che ho preso l'Ajax mette a segno il primo gol della gara 1-0 qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa ha funzionato a meraviglia c'è la palla lunga in avanti un giocatore sempre pericoloso in area di rigore però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo De Bruyne ci mette lo zampino e riconquista la sfera vedo vari uomini Luca che rimangono alti anche quando sono senza palla si cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio è esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita ormai non hanno altra scelta devono solo attaccare è proprio così attraversone in area va bene opportunità di ripartire prova a darla profonda nello spazio allora non riesco a prenderla ragazzi se non riesco a prenderla ha provato a fare tutto da solo la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati Bappe anticipa la traiettoria del pallone ah passa per il tiro adesso va più toccato adesso ragazzi nooo che cazzo nooo che cazzo è un po' di merda e mi siamo diciamo un po' subbusolate tre pili in porta due però alla fine diciamo di fare qualcosa di diverso qua allora facciamo così e mettiamo questo e mettiamo cazzo qua e mettiamo ehm ehm Lampard Varela al centro e questo fa proprio cagare Ennandez eh Ennandez ragazzi non non di alba eh vediamo così ragazzi non so neanche io ormai siamo diamo la deriva ragazzi purtroppo che ha preso quel gol che ci ha ci ha devonalizzato ci ha voluto giù ci ha proprio messi pedri l'avversario alla meglio nel corpo a corpo esempio perfetto di marcatura gli hanno impedito di andarsene via palla in piede calcio di posizione per l'Ajax no per l'Ajax numero 15 va bene ci sta ci sta il numero 23 il numero 14 e non c'è modo di aggirare il difessore ma perché la passa qua beh questo è un passaggio quanto meno ma dai ci prova con un pallone profondo provano a partire in velocità Giordi Alba eh ragazzi quando fa va così difesa molto distratta in questa occasione non possono permettersi di perdere la concentrazione così errore qui pallone sprecato ma è ragazzi ormai questo è finita è finita bisogna essere proprio vado a chissà che cosa adesso ragazzi eh ragazzi l'orecchio prende là in profondità grande giocata difensiva sulla destra Lautaro Martinez Mbappe può andare punizione l'arbitro dichiara che è arrivato niente raga niente è andata malissimo eh io pensavo di fare meglio l'esordio in quarta divisione è andato male in quarta in settima è andata male l'esordio in settima è andata male probabilmente abbiamo trovato un avversario degno forte due di riporta ha fatto il gol ragazzi noi tre tiri quattro parate non so come è possibile comunque ha vinto lui bravo bravo ragazzi rimaniamo zero settima divisione andremo avanti con calma nelle prossime partite ce la possiamo fare siamo sempre qua cos'è che c'è qua abbiamo queste cose qua si tranquillo vediamo un po' avversario sono curioso di dire c'era anche un settimo è da dove venire però eh perché probabilmente un settima come me è dalla quarta diamo una chettina diamo una chettina no cazzo questo era viene dalla seconda ragazzi eh viene dalla seconda quindi letteralmente un perillo più forte anche se era in ottavo probabilmente il retrocesso non ha giocato non so che cacchio ha fatto in questi giorni però è arrivato in seconda noi in seconda ragazzi non siamo ma noi neanche in terza noi ragazzi al massimo abbiamo fatto la quarta quindi quindi tutto sommato questo era più forte di noi ce la siamo giocata alla pari non meritavamo di perdere ma è finita così tu for vinci ragazzi vi saluta vi ringrazio tutti quanti per essere rimasti con lui vi do appuntamento al prossimo episodio di eFotball saluti a tutti i suoi amici ovviamente i amici youtuber che portano questo gioco che ho menzionato all'inizio magari trovate tutti quanti nella mia sezione canali ovviamente e in descrizione a questo canale trovate anche un link alla playlist di questo stesso gioco di eFotball le mie partite le mie uscite le mie stravaganti partite perse vinte pareggiate quello che è niente ragazzi su Fomiso vi saluta alla prossima un appuntamento ciao a tutti e buona serata giornata quello che è mattinata scolata non lo so ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao a tutti